Vi faccio vedere una ricerca di Mediobanca fatta sulle perdite all'Italia accumulate negli ultimi 40 anni, non stiamo parlando delle perdite di questi giorni. Negli ultimi 40 anni all'Italia è costata ai contribuenti italiani questo numero qua impressionante, 7,4 miliardi di euro, il che vuol dire che ha perso ogni anno, ve lo dico semplice, 185 milioni di euro. Ogni anno ha perso quattrini all'Italia. Vi dico un altro aspetto che oggi il Sole 24 Ore ha messo in evidenza, Fabio Pavesi lo ha esplicitato. I passeggeri, cioè chiunque utilizzi un volo in Italia di qualsiasi compagnia paga 3 euro per ogni biglietto di qualsiasi linea aerea per finanziare il fondo speciale per il trasporto aereo che riguarda tutti i dipendenti del trasporto aereo, non soltanto quelli all'Italia, anche se ovviamente ne sono una fetta molto importante. Altri numeri con Greta Mauro, vediamoli. Poi dopo parliamo in studio. Ci sono dei numeri prodotti da uno studio dell'Università Bicocca di Milano su quanto diverse compagnie aeree guadagnano a volo. Ryanair guadagna su ogni volo 2.400 euro, EasyJet 1.400, la Welling 800, l'Italia perde per ogni volo 2.300 euro. Ma non soltanto questi numeri. Questi dati chi li ha fatti? Sono dei dati di uno studio dell'Università di Milano, la Bicocca, dei professori hanno fatto questo studio, ma non soltanto questi dati, perché vediamo quanto è cambiato il panorama dei passeggeri dal 2005 in Europa, dal 2005 al 2015. Prendiamo in esame i numeri di Lufthansa. Lufthansa aveva in un anno, nel 2005, 51 milioni di passeggeri ed è passata nel 2015 a 107 milioni. All'Italia passa dai 30 milioni del 2005 a 23 milioni nel 2015, quindi perde 7 milioni di passeggeri. All'Italia passa dai 30 milioni di passeggeri.